Ciao a tutti, scusate la barba, me la faccio ve lo prometto, sono qua sul palco di Senigallia dove stiamo finendo le prove di allestimento del tour che parte il 7 di dicembre, vi aspetto tutti perché è un bellissimo concerto, un concerto che va a rivisitare pezzi che da tempo non suonavamo, con versioni acustiche, versioni elettriche molto belle e non posso altro che dirvi di non mancare, dove vi capita per questa prima fase e poi con l'anno nuovo vedremo altre situazioni dove è possibile raggiungerci strada facendo. Ciao ragazzi, a presto!